Conosco quello sguardo. Hai trovato un oggetto incredibile che nel giro di poco tempo è diventato inutile. Non temere. Ora hai la possibilità di forgiare l'arsenale dei tuoi sogni. Scegli le caratteristiche essenziali del tuo equipaggiamento cercando potenti ricette e affinando i tuoi strumenti alla perfezione. Il sangue dei nemici ti sta bene addosso. Liberati del fardello di esaminare il bottino dopo ogni scontro. Adesso hai gli incantamenti più ambiti a portata di mano. Passa meno tempo a smistare e più tempo a uccidere. Questa è la fossa dove i campioni più temibili di Santuarium si mettono alla prova. I più valorosi ottengono un potere senza pari. Cioè, sempre se non muoiono prima. I cultisti fanatici alimentano la marea infernale aprendo un nuovo fronte di guerra. Ai lupi di ferro farebbe comodo una persona come te. Combatti al loro fianco e sapranno esserti riconoscenti. Ma pada... nuovi e potenti demoni si aggirano per le lambe. I servi dell'inferno sembrano ansiosi di provare la tua nuova lama. Non farli aspettare. Preparati a una nuova e gloriosa era.